Ho sempre fatto le foto perché sono nato come fotografo, solo che ho avuto la sfortuna di fare i primi due concorsi e di vincere. Quando sei un ragazzo per i primi due concorsi fotografi vinci, dopo sei le frega più le credi di essere e smetti di fare concorsi, fai esperimenti. Però io facevo sempre le foto anche perché facendo giornalista io portavo le serenze fotografi per l'articolo e quindi mi pubblichavano le foto perché è già tutto prodotto finito. Quindi il direttore del giornale diceva ma sti class chi sono? Che te mi mandi dei gruppi sconosciuti? Quei class sono diventati class. E quindi sono queste foto che lui che è stato direttore di arte Forlì, Alviera, anche di arte Padova, gli sono piaciute e devo dire che me le stanno chiedendo, me le stanno chiesto dal teatro Ariston, adesso me le stanno chiedendo Napoli. Quindi tu sei stato il primo, quello che mi ha fatto... Sono sempre il precursore. Grazie ai due di Glanz Art Studio sei stato il primo. E quindi qui ci sono foto delle star fatte soprattutto negli anni 80, sono diapositive queste e ci sono delle foto, se volete io ve le racconto. C'è una sensata.